Dalla Campania siamo arrivati in Molise, ad Isernia, una città antichissima. Per la partenza della nonna tappa del Giro d'Italia, facciamo i pepatelli, un biscotto simile al Cantuccio, però ricco di pepe. Gli ingredienti sono scorza di arancia, scorza di limone, zucchero, farina, del bicarbonato, del miele e delle mandorle, ed ovviamente il pepe. Il zucchero si sta sciogliendo. Mettiamo la farina. Zesta d'arancia, mandorle, ora mescoliamo il tutto. L'impasto è pronto quando risulta sia appiccicoso, però ben sodo. E gli diamo la forma di un filoncino. Teglia, forno e via. Con molta attenzione bisogna tagliare in diagonale. E adesso di nuovo in forno per cinque minuti. Ora sì che sono pronti. Grazie. 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 Grazie.